Lo splendido castello di Soave fa da sfondo al ritrovo di partenza della 78esima edizione della Vicenza Bionde. La regina delle classiche in linea riservata agli Under 23 si corre tutta in territorio veronese in un tracciato ormai consolidato grazie al lavoro dell'Unione Sportiva Bionde capitanata da Filippo Scipioni. Alla ritrovo di partenza rappresenta anche il vice presidente della Federazione Ciclistica Italiana Ruggero Cazzaniga mentre ad abbassare la bandiera a scacchi è stato proprio Filippo Scipioni. 156 gli atleti in gara per questa corsa che si disputa sulla distanza dei 163 chilometri e 700 metri. Si parte subito in salita e si va a ripercorrere la Val di Lasi ma mentre il gruppo è impegnato sulla strada andiamo ad ascoltare il saluto delle autorità raccolto pochi minuti prima della via. Filippo Scipioni, Vicenza Bionde numero 78 ormai alle porte. Cosa dire? Siamo ancora qui nonostante le difficoltà, nonostante il periodo che non è favorevole. Speriamo in una ripresa di tutte le cose che questa guerra finisca, che la pandemia se ne vada. Abbiamo tenuto duro questi due anni, non abbiamo perso nessuna edizione e partiamo da Soave come da due anni a questa parte quindi in terra scaligera e arriviamo a Bionde per fare otto giri nel circuito locale dove si svolgerà il grosso della corsa. Speriamo una bella giornata di sport e di vita e di grande pubblico. Siamo con il primo cittadino di Soave. Soave darà la partenza alla Vicenza Bionde 2022. Una bellissima tradizione che si rinnova e un gemellaggio tra Soave e Bionde che prosegue. Assolutamente sì, questa è la terza edizione che Soave ha il piacere e l'onore di ospitare. Chiaramente da parte mia c'è grande entusiasmo in tutto questo. Cerchiamo di metterci alle spalle con questo evento, quello che sono stati due anni particolarmente difficili dovuti alla pandemia. Quindi la Vicenza Bionde, a me piace così intitolarla la Soave Bionde, deve essere appunto all'insegna della ripartenza e che unisce appunto due territori importanti, quindi la parte della collina della provincia e la parte della Pionura con le sue eccellenze, la sua storia e i suoi monumenti. Salizzole è terra di grande ciclismo e Bionde regala anche quest'anno la perla della grande classica, la Vicenza Bionde. Ma io più che una perla la definirei un miracolo. A Bionde, l'OS Bionde organizza questa gara ormai ben da 78 anni, quindi una corsa che ha una storia importantissima per tutto il movimento ciclistico e ovviamente per il nostro paese. Sono da ammirare perché mettono in campo da un anno all'altro volontariato, impegno e qui devo anche ringraziare veramente tutte le associazioni che danno una mano a loro, i volontari e gli sponsor. Con le nostre immagini torniamo in gara al chilometro 60 quando a tentare la solo è il dorsale 25, l'ucraino Chirillo Zarenko della gallina Ecotec Lucchini. Solo un centinaio di metri però per lui con il gruppo che torna compatto. Un plotone che si era allungato a dismisura invece sul primo Gran Premio della montagna di giornata, lo avete visto nelle immagini che precedevano che è stato vinto dal veronese Edoardo Zamperini della Zalfero Mobile Desiree Fior. Siamo quindi all'entrata sul circuito finale di Bionde, un anello che andrà ripetuto per ben otto volte e che propone un finale decisamente favorevole alle ruote veloci. C'è il pubblico delle grandi occasioni in una giornata primaverile che ha segnato il ritorno della gente sulla strada per applaudire il gruppo. Un gruppo che lo vedete passa ancora una volta allungato e in forte bagarre al primo passaggio sulla linea del traguardo. Tanti sono gli scatti che si susseguono in questa fase di corsa sino a quando riesce ad evadere un terzetto composto da Walter Ghigino della Opla Petroli Firenze con il dorsale 109, quindi con il dorsale 65 Thomas Casasola della pedale Scaligero, mentre maglia di campione bosniaco Under 23 per Sergei Maximovic della Carnovali Rime Sias. Questo ragazzo che è campione nazionale non solo su strada ma anche a cronometro. Il gruppo lascia fare a questi tre attaccanti che riescono a guadagnare un vantaggio massimo di 1 minuto e 40 secondi sul resto della corsa. Per loro ci sono gli applausi dello sportivissimo pubblico di Bionde e di Salizzole dove va in scena questo carosello finale che ormai da diversi anni caratterizza le fasi decisive della Vicenza Bionde. Una corsa dall'albo d'oro importantissimo, quella che come ha sottolineato Filippo Scipioni nelle interviste pre-gara non ha mai interrotto il filo rosso che la lega alla storia. L'ultimo ad imporsi su questo traguardo era stato il nazionale russo Gleb Siriza nel 2021 che aveva bissato così il successo già ottenuto nel 2019. Ma nel 2020, nell'anno del Covid, nell'anno della pandemia, quando si corse in pieno autunno, ad imporsi fu niente meno che Filippo Baroncini, poi laureatosi campione del mondo Under-23. Quindi uno scenario, l'abbiamo detto, quello della Vicenza Bionde destinato, nonostante il tracciato pressoché pianeggiante, a premiare sempre atleti di grandissimo calibro. Passano i chilometri, con le nostre immagini siamo già a quattro giri al termine, vedete che il gruppo inizia a disporsi in lunga fila indiana. Infatti iniziano le squadre dei velocisti ad andare all'inseguimento dei tre battistrada che proseguono di comune accordo, ma il loro vantaggio inizia a diminuire sensibilmente. Dunque un plotone deciso a riportare i ranghi compatti in vista del gran finale. Ormai ci sono i minuti contati per questi tre coraggiosi di giornata, a cui però vanno fatti complimenti per il coraggio e soprattutto per la bellezza della loro azione. Non era facile evadere dal gruppo in una giornata così bella per andare in bicicletta, nella quale ovviamente il grosso del gruppo era favorito rispetto agli attaccanti. Siamo già al suono della campana e vedete che il plotone è tornato compatto anche se non mancano gli scatti in testa al gruppo. Ultimo passaggio dunque nel cuore di bionde, il prossimo segnerà il traguardo finale con la velocità che si alza notevolmente. Proseguono gli scatti in testa al gruppo, faticano i treni delle squadre ad organizzarsi e quindi sono tanti gli atleti che provano la fortuna, che tentano di piazzare la stoccata che potrebbe essere decisiva. Ci prova anche l'azzurro della pista Manlio Moro della Zalfero Mobile a Desiree Fior. Vedete sulla sua ruota tutti gli altri atleti faticano a rimanere in questo tratto caratterizzato dal vento laterale ma anche Manlio Moro è costretto a rialzarsi dalla propria azione e lasciare spazio al rientro del gruppo. Ormai mancano pochissimi chilometri al traguardo, il pubblico attende con grande passione l'arrivo dei corridori a spuntare in testa dall'ultima curva è la maglia del Second Team Friuli di Mattia Garzara ma attenzione perché negli ultimi 50 metri lo spunto veloce vincente è quello di Mattia Pinazzi dell'Arvedi, l'atleta emiliano conquista quindi il suo secondo successo stagionale dopo quello già centrato a Misano Adriatico e chiude la Vicenza Bionde davanti a Mattia Garzara del Second Team Friuli, quindi terzo Davide Persico della Colpac Ballan. Seguono Alessio Portello della Zalf, quindi Davide Vignato della General Store, Matteo Pongiluppi della Gallina Ecotec, Daniel Scherled del CTF, Matteo Fiaschi della Opla Petroli Firenze, Michael Comin della Solme Olmo e Josue Epis della Carnovali Rime Sias. A Bionde è già tutto pronto per la cerimonia protocollare di premiazione e allora andiamo con le interviste del dopo gara. Mattia non ci credevi quasi? No vabbè, oggi me la sentivo, volevo vincere e niente è andata bene, eravamo in pochi ma pochi ma buoni. Seconda vittoria quest'anno la dedica a chi la facciamo? A tutte le persone che in questo periodo mi hanno aiutato un po' tra alti e bassi, le ringrazio tutte. Mattia Garzara ti hai rivisto davanti, è il 100 metri dell'arrivo, poi questi ultimi istanti sono stati micidiali. Sì, ero davanti fino all'ultimo, poi forse ho lanciato la volata troppo presto e l'ho pagata alla fine. Sono arrivato secondo, è un risultato comunque importante in una corsa storica come la Vicenza Bionde. Oggi penso di aver coronato un lavoro di squadra perfetto anche con questo secondo posto. Nel finale c'eravamo tutti quindi non ci sono rimpianti, è stato più forte il primo, ci riproveremo la prossima volta. Sandro Chechin, presidente del Comitato Regionale Veneto, la Vicenza Bionde segna un'altra importante ripartenza. Oggi siamo ritornati visivamente al ciclismo di antepandemia perché la giornata lo ha certamente favorito ma c'era un pubblico davvero delle grandi occasioni e quindi come ho detto prima oggi ha vinto il ciclismo e siamo felici per questo. Ettore Isoli, vicepresidente dell'US Bionde, una giornata straordinaria che lascia tante emozioni nel cuore. Commovente direi, vedere questo pubblico meraviglioso, così appassionato, questi numeri veramente significativi in termini di presenza ci scalda il cuore, ci dà fiducia per il futuro, ci sprona ad arrivare senz'altro all'ottantesima edizione con entusiasmo rinnovato, veramente con il cuore reso un po' più giovane perché questo veramente ci dà uno stimolo ulteriore.